Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi ho deciso di parlarvi di un caso che mi ha molto colpita. Parliamo di un segreto nascosto in un barile, ne stiamo interrato di una bella casa di Long Island. Ma andiamo con ordine, è il 2 settembre del 1999, quando la polizia viene chiamata in un quartiere tranquillo di Long Island, a New York. Siamo a Jericho per la precisione. Robert Edwards, rispettore della squadra omicidi della contea di Nassau, si dirige sul posto e trova già sulla strada alcuni abitanti, lì della zona, che cercano di capire cosa stia succedendo. Poco distante c'è un bidone di metallo da 200 litri. Poco dopo l'arrivo del detective Robert, anche il detective Brian Parpan raggiunge il suo collega sul posto. Insieme ai due detective tolgono il coperchio a quell'enorme bidone strano, che sta peraltro nel cortile di un'abitazione, e vengono investiti da un odore nauseante. Quello è un odore inequivocabile, è odore di morte e putrefazione. Quindi, dentro quel barile, c'è un corpo. Quando la polizia però guarda dentro quel bidone, non riconoscono esattamente un corpo, è strano. In quanto è visibile solo una mano e una scarpa. Quindi non hanno idea di che cosa abbiano davanti. Tentano di conseguenza di raccogliere informazioni, ma nessuno sa chi ci sia dentro quel bidone. A questo punto il detective Brian Parpan si informa su chi abbia trovato quel bidone. Perché è pesante, è difficile da spostare, insomma, non può essersi materializzato lì dal nulla. A farsi avanti è il nuovo proprietario di una casa, che nel semi-interrato ha trovato per l'appunto quel bidone prima di trasferirsi. Il proprietario di quella casa vuole quel bidone fuori dalla sua proprietà. E sicuramente raggiunge il suo obiettivo, perché la polizia a quel bidone è costretta a svuotarlo e ad analizzarlo. Prima però le autorità ispezionano la casa in cui è stato trovato il bidone. In quanto temono ci possa essere qualcosa d'altro, forse qualche altro bidone con all'interno qualche altro corpo. Per di più temono fortemente che ci possa essere qualche altro corpo sepolto in giardino. Dopo ricerche approfondite in quella casa non vengono ritrovate né altre prove né altri corpi. Alla polizia quindi rimane quell'unico ritrovamento, il bidone. I media ovviamente non mancano di descrivere minuziosamente la storia. Quindi è possibile scoprire in che modo quel bidone è uscito fuori allo scoperto. La casa in questione è stata venduta due giorni prima, però il nuovo proprietario, prima di chiudere la vendita, ha chiesto al padrone di casa di portare via un bidone nero presente nel semi-interrato. Anche il padrone di casa non ha idea di che cosa ci sia in quel bidone nero, quindi lo apre insieme all'agente immobiliare. E ovviamente ciò che scoprono dentro quel bidone li fa rabbrividire. Avvisano di conseguenza un nuovo proprietario di casa che chiama la polizia. A questo punto entra in azione Oscar Corral, un giornalista del Newsday alle prime armi. Quello sul barile per lui è il servizio più importante. Deve assolutamente dare il massimo e dimostrare ciò che è in grado di fare e farlo al meglio. Questo caso è molto tragico e ad Oscar viene assegnato un ruolo di primo piano alle indagini. Infatti il ragazzo rimane in un ufficio nella stazione di polizia in modo da poter continuare a seguire il caso. Ogni tanto Oscar riesce anche a vedere qualche ispettore della squadra omicidi. Dovete sapere che Oscar ha già avuto modo di conoscere il detective Robert Edwards in passato per altri casi. E lo mette un tantino in soggezione. In quanto quel detective è considerato uno dei più importanti, uno dei migliori, è uno dei funzionari con più anni di attività. E non si occupa di piccoli crimini che si risolvono facilmente. Se gli è stato assegnato proprio questo caso in particolare, è perché si richiede una certa attenzione e una sensibilità particolare. Poco dopo il ritrovamento del bidone, gli inquirenti devono affrontare il penoso compito di scoprire chi è stato nascosto all'interno. In quel momento presente c'è un'equipe di medici per eseguire l'autopsia, ci sono dei detective della squadra omicidi e un agente della scientifica che fa delle fotografie. Durante l'apertura del bidone tutti indossano una maschera antigas perché l'odore è insopportabile. Gli esperti però, quando esaminano l'interno di questo bidone, trovano strani reperti. Intorno ai resti ci sono dei truccioli che sembrano quasi delle perline. Quei truccioli alla fine si riveleranno essere polistirolo. Ce n'è tantissimo attorno al corpo e quindi la sua estrazione diventa ancora più difficoltosa. Ovviamente il fine è quello di non rovinare nulla per poter analizzare tutto ciò che c'è dentro quel bidone. In quanto quella donna non è senza vestiti. E se avesse addosso anche qualche effetto personale utile all'identificazione, è necessario essere molto precisi e non sbagliare in questi casi. Quando i detective dopo due ore e mezza estraggono il corpo dal bidone, con parecchia difficoltà, peraltro, si rendono conto che quello, sì, è un corpo, ma è un corpo mummificato. La vista per tutti i presenti in quella stanza è agghiacciante. I detective non hanno mai visto in precedenza un corpo simile. La pelle sembra fatta di cuoio. La maggior parte degli organi non ci sono più. Il corpo si è ritirato completamente. Ed è rimasta solo la pelle sopra le ossa. Niente di più. La vittima viene poi identificata come una donna perché notano il modo in cui è vestita. Indossa una giacca, un maglione sotto la giacca, una gonna e delle scarpe. E quei vestiti non sembrano assolutamente recenti. Anzi, quella donna sembra essere vestita con dei vestiti molto, molto vecchi. I detective credono che quegli abiti risalgano ad almeno 30 anni prima. Il punto è che senza autopsia non c'è nessuna certezza. I medici legali finalmente emettono il referato dell'autopsia. Quando i detective lo leggono si rendono conto della terribile sorte che ha dovuto subire quella povera vittima. La parte posteriore della testa è totalmente fracassata. È stata colpita tante volte, per l'esattezza 10 volte, da un oggetto pesante. Quindi è evidente che si tratti di qualcuno che era molto arrabbiato con quella donna. L'ha colpita così tante volte e così tanto violentemente. Il medico legale che ha eseguito l'autopsia ha riscontrato che la vittima ha delle capsule d'oro in bocca. Ed il medico legale è originario del Sud America. Quei lavori, lui lo sa, non si fanno negli Stati Uniti. Quindi è probabile che quella vittima sia sudamericana. Ma non è finita qui. C'è un'altra informazione che fa rimanere di stucco i detective. Quella donna, quando è venuta a mancare, era incinta di 9 mesi. Ed il feto si è mummificato con lei. L'intero corpo pesa 25 kg. Gli inquirenti a questo punto si chiedono quale possa essere il movente dell'omicidio. E succede spesso che, con una giovane ragazza che rimane incinta, il padre del nascituro si rifiuti di affrontare le proprie responsabilità. E capita anche talvolta che arrivi ad uccidere la sua compagna. Può succedere, attenzione, non è la regola, ma può capitare nei casi più estremi. Secondo i detective, quello si tratta di un caso irrisolto, perché la vittima può essere rimasta in quelle condizioni, in quel barile, in quel bidone, per 30 anni. E il suo assassino potrebbe essere addirittura non più in vita. Per identificare la vittima, gli inquirenti posano l'attenzione su un oggetto trovato in quel bidone, ossia la borsetta della vittima. All'interno di quella borsetta trovano un kit per il trucco, un pettine, e una piccola agendina, o meglio, una rubrica telefonica. E quella rubrica telefonica potrebbe essere davvero molto utile per le indagini. Peccato sia totalmente bagnata. È impossibile d'aprire, è molto fragile, molle. È così semplice bucarla anche solo con due dita. I detective non nutrono molte speranze, però provano comunque a far asciugare quella rubrica alla ricerca di un qualsiasi indizio utile. Mentre gli investigatori attendono che le pagine di questa rubrica si asciugino, tentano di seguire un'altra pista decisamente più promettente. Infatti in quel barile trovano anche una collana, con un ciondolo apribile di metallo dorato, su cui si legge chiaramente un'incisione a Patrice con affetto zio Phil. Forse quello può essere il nome della donna, Patrice. Gli agenti invitano tutti a chiamare gli uffici per le persone scomparse di New York e della contea di Suffolk, per chiedere se per caso tra le denunce di scomparsa hanno anche quella di una ragazza ispanica di corporatura minuta, alta un metro e cinquanta, il cui nome corrisponde a Patrice. Il detective spera vivamente di arrivare a qualcosa, poi però parla con un suo collega, che lo conferma del fatto che né a New York, né la contea di Suffolk o Nassau, esiste qualche denuncia di scomparsa di una persona che corrisponde con il nome di Patrice. I detective a questo punto si buttano giù perché hanno solo quell'informazione che si è pure rivelata falsa. A questo punto le autorità provano a ragionare. È possibile che qualcuno metta un corpo nel suo seminterrato? Sì, ma si tratta di casi estremi, come nei casi dei crimini seriali. Una persona che colpisce una volta sola nella vita difficilmente farebbe una cosa del genere. In ugual modo è difficile che qualcuno dall'esterno si vada a intruffolare a casa di qualcuno sconosciuto per far rotolare un barile, un bidone di quelle dimensioni e di quella pesantezza nel seminterrato. D'altro canto, ragionandoci un attimo, ci sarebbe una cosa utile da scoprire. Quando è stato fatto quello scantinato? Con la casa? Dopo la casa? È stato un ampliamento successivo? Ed eccola, una nuova pista percorribile. Recuperare le carte edilizie di quella casa. Secondo i registri del municipio, lo scantinato è stato ricavato più di dieci anni prima, nel 1980. I detective quindi iniziano ad indagare sui lavori effettuati all'epoca, perché pensano che magari qualche operaio che ha lavorato lì, possa aver infilato quel bidone sotto la casa. Per poter raccogliere informazioni sugli operai che hanno effettuato i lavori all'epoca, gli inquirenti ovviamente cercano anche i proprietari della casa dell'epoca, però quando li trovano si rendono conto che la loro pista non porta nulla. Infatti il proprietario di quella casa nel 1980, dice detective in modo sicuro che lui non ha effettuato nessun lavoro di ampliamento, né, tanto meno, ha fatto un seminterrato. Il detective però inizia a nervosirsi perché gli sembra che l'uomo stia negando l'evidenza, quindi inizia a dirgli che lo sa che nell'80 il proprietario era lui. Di conseguenza deve aver effettuato quei lavori per forza. Il detective Brian Parpan dice A questo punto il vecchio proprietario di casa dice ai detective Sì, mi è parso di aver visto quel bidone, ma non l'ho mai toccato e non ho costruito io quel semi interrato. Intanto il laboratorio comunica alle autorità di aver scoperto qualcosa. Infatti come vi ricorderete la rubrica trovata era così tanto pregno dei liquidi corporei che nei detective c'era ormai la sicurezza che fosse recuperabile. E invece sono riusciti in qualche modo a farla asciugare quella rubrica. Riescono quindi finalmente ad aprire le pagine e a leggere qualche numero di telefono. Una cosa che i detective notano ispezionando le pagine asciutte è una scritta che la ragazza ha fatto prendendo due facciate della rubrica. Ha scritto Quello ovviamente sembra il messaggio di qualcuno lasciato per qualcun altro ma non è indirizzato a nessuno e viste le circostanze è un tantinello inquietante. Intanto ulteriori indagini chiariscono la posizione del proprietario di casa del 1980. Queste indagini però non le fa la polizia, le fa il giornalista Oscar Coral. È lui che scopre l'errore presente sulle carte del municipio. Infatti quello scantinato è stato costruito nel 1960 dal primo proprietario di quella casa Howard Elkins. Gli investigatori quindi puntano l'attenzione sull'uomo che però pare abbia una vita normalissima. All'apparenza sembra avere tutte le carte in regola. L'uomo conduce una vita serena, ha una bella casa, una bella famiglia e un'attività affermata e di successo. Insomma diciamo che la vita di questo Howard sembra perfetta e pare difficile credere che abbia commesso un crimine così tanto atroce. Però leggendo la sua storia salta all'occhio un particolare. Howard Elkins acquista quella casa nel 1957 perché è il proprietario di una fabbrica di plastica non troppo distante. Vive lì per 15 anni prima di venderla nel 1973 e spostarsi in Florida, posto dove vive tuttora. Quindi dato che Howard vive in Florida i detective prendono un volo l'8 settembre del 1999 proprio per andare a Boca Raton. Vogliono fare proprio quattro chiacchiere con Howard Elkins. Howard quando apre la porta ha un'espressione sconvolta. Perché dei detective si presenta alla sua porta? Non capisce, ma li fa entrare ugualmente. Chiede se per caso ci sono problemi e i detective tirano fuori la foto del bidone trovato nel seminterrato della casa a Jericho chiedendogli semplicemente mi dica, questo gli dice qualcosa? Howard dice chiaramente che quel bidone a lui non dice assolutamente niente. Però poi i detective iniziano a fargli parecchie domande e Howard alla fine ammette di aver avuto un amante esattamente 30 anni prima. La cosa si fa interessante insomma quindi i detective cercano di capire chi sia quest'amante ma Howard sostiene di non ricordarselo non ricorda neanche il suo nome. I detective fanno diverse domande all'uomo sull'aspetto che aveva la sua amante ma Howard risponde sempre non me lo ricordo a qualsiasi domanda non so neanche ricordare se quella ragazza aveva i capelli neri o di qualche altro colore e ovviamente per i detective questa storia è assurda non si tratta di una storiella di una notte avvenuta 30 anni prima bensì di una donna con cui ha tradito sua moglie ha avuto una relazione extra coniugale con lei pare strano che non si ricordi nulla a questo punto i detective decidono di fare quel passo decisivo capiscono che Howard non parla chiaro e non dice tutto quindi gli dicono con molta tranquillità guardi dobbiamo scartare questa pista quindi possiamo prenderle un campione del dna all'interno della sua guancia a questo punto Howard si nervosisce e strilla mi state dicendo che dovete scagionarmi? io non ho bisogno di darvi un mio campione del dna perché non ho nulla a che fare con questa storia inoltre voglio parlare immediatamente con il mio avvocato insomma Howard nel giro di uno schiacco di dita diventa irritabile nervoso dice il detective che presto sua moglie sarebbe ritornata a casa non vuole metterla in agitazione quindi li invita ad andarsene a questo punto il detective Robert Edwards lo guarda negli occhi e gli dice in modo molto serio e minaccioso noi ce ne andiamo va bene ma ci procureremo un mandato e con quello potremo prelevare il sangue e confrontare il suo dna con quello di quella donna e di quel bambino perché ricordiamoci che quella poverina era pure incinta poi tornerò e la sbatterò dentro per il resto dei suoi giorni l'affermazione che ha fatto il detective è abbastanza pesante importante e una persona non colpevole reagirebbe in un certo modo sicuramente non standosene tranquillo e invece Howard non dice una parola si gela fissa un punto davanti a sé e non dice niente a questo punto i detective escono da soli da quella casa certi di aver trovato il colpevole però l'indagine è tutt'altro che conclusa intanto la rubrica continua ad asciugarsi ma procede lentamente perché si possono trattare sono una o due pagine ogni 4 o 5 ore così i detective trovano un numero su quella rubrica che sembra quello per identificare un immigrato contattano di conseguenza il servizio immigrazione per sapere a chi appartenga questo numero e finalmente dopo 5 giorni arriva un nome Reina Angelica Marroquin che al tempo aveva 28 anni ed era arrivata da El Salvador Reina arriva nell'agosto del 1966 dopo un matrimonio fallito decide di partire per andare a New York e vivere il sogno americano Reina una volta giunta in America inizia a seguire corsi di inglese e formazione professionale per imparare la lingua col tempo riesce a migliorare il suo inglese e le autorità scoprono che in quel periodo Reina abita a Manhattan in una piccola casa grossa poco più di un buco questa secondo me è una bella scoperta dare un nome un volto una storia alla vittima è sempre molto importante a mio parere però tutte queste informazioni non portano i detective a scoprire il collegamento che ci potrebbe essere tra Reina e Howard decidono quindi di mantenere segreta l'identità di Reina in attesa di nuove prove il detective David Parpan esamina i numeri di telefono recuperati dalla rubrica prova a chiamarli quasi tutti ma risultano non rintracciabili sono numeri molto vecchi che probabilmente neanche esistono più fino a quando il detective non compone un numero di telefono e suona e qualcuno risponde hanno trovato lo stesso numero e lo stesso utente di 30 anni prima quel numero appartiene ad una donna di nome Katie Andrade che dice di aver conosciuto Reina così il detective Brian Parpan si reca da lei le spiega che stanno indagando su un omicidio e stanno cercando di identificare qualcuno mostra la foto di Reina a Katie e quest'ultima scoppia in lacrime erano amiche molto molto affezionate hanno legato moltissimo dopo essersi incontrate in un rifugio chiamato Joan of Arc Home a Manhattan Katie racconta ai detective molte cose di cui non sono a conoscenza Reina infatti va via dal rifugio a Manhattan trova lavoro in un'azienda che produce fiori di plastica e inoltre ha un segreto che non ha mai osato rivelare a nessuno tranne alla sua amica Katie e secondo Katie è proprio quel segreto ad essere legato alla sua scomparsa Reina infatti racconta di essere incinta del suo capo lui ha trovato un appartamento dove farla stare nel New Jersey provettendole che avrebbe lasciato sua moglie per poi sposarla poi una sera Reina chiama Katie ha un tono molto coincitato è sconvolta e dice non mi sposerà mai Katie mai inoltre ho fatto una cosa così stupida Katie quindi chiede a Reina che cosa hai fatto Reina spiega ho chiamato la moglie le ho spiegato chi ero le ho detto che ero incinta e che lui doveva sposarmi Katie cerca di tranquillizzare la sua amica con pochi risultati però comunque per ora la situazione finisce lì fino al giorno dopo quando Katie di nuovo riceve una chiamata da Reina che le dice testuali parole è talmente arrabbiato che mi vuole uccidere ti prego vieni a casa mia Katie si presenta a casa sua ma trova la porta di casa aperta la tavola è apparecchiata il cibo caldo e i suoi fornelli ma Reina non è in casa non c'è l'appartamento è perfettamente in ordine non manca niente manca solo Reina Katie sta lì nell'appartamento per ore sperando di vedere tornare la sua amica che però non è mai tornata Katie cerca anche di presentare alla polizia una denuncia per una persona scomparsa ma non ci riesce perché non è una parente di Reina nonostante Reina non abbia rivelato neanche la sua amica e il nome del suo amante alle autorità cambia poco i detetti vanno ben chiaro in mente che potrebbe essere il sospettato perfetto Howard Elkins possedeva una fabbrica di plastica e aveva abitato nella casa in cui era stato ritrovato il corpo ma quando gli inquirenti sono davvero convinti di aver risolto il caso accade qualcosa la moglie di Howard Elkins va a denunciare la scomparsa di suo marito gli inquirenti nel frattempo si procurano un mandato per avere un campione di DNA di Howard Elkins quella sera sono tutti quanti a cena fuori e Brian Parpan ad un certo punto si alza dal tavolo per fare una chiamata in ufficio quindi si allontana quando ritorna informa i suoi colleghi che Howard Elkins è scomparso poco tempo dopo la sua scomparsa Howard viene trovato nel garage di un suo vicino di casa ebbene l'uomo si è infilato nella macchina di un suo vicino si è infilato una pistola in bocca e si è sparato è evidente che Howard sapesse di essere stato scoperto ed evidentemente per lui non esisteva una via d'uscita perché non voleva andare in prigione tutti ci rimangono davvero male i detective avrebbero voluto dare giustizia a Reina e quando scoprono che l'uomo si è suicidato sono quasi arrabbiati con Howard volevano metterlo dietro le sbarre volevano farla pagare a quell'uomo che però ha preferito la morte alla prigione peraltro la cosa che mi lascia davvero senza parole è che Howard dopo aver tolto di mezzo la sua amante ha continuato la sua vita tranquillamente ha continuato a stare con sua moglie ma soprattutto non ha avuto alcun problema a serbare quel segreto per anni e anni in ogni caso anche dopo la sua morte i detective vogliono comunque prelevare il suo DNA col fine di confrontarlo con quello del feto in questo modo possono archiviare in caso anche in assenza di arresti in breve il sangue di Howard viene confrontato con i tessuti del feto di Reina gli incurrenti quindi sono convinti che nel 1969 quando Reina chiama la moglie di Howard quest'ultimo reagisca con violenza in quanto non vuole perdere né la sua famiglia né i suoi soldi né la sua casa non ha alcuna intenzione di scappare con Reina anche se gliel'ha promesso e alla fine quando le cose sono degenerate e Reina ha confessato tutto a sua moglie in Howard si è scatenata una vera e propria furia vedendo la quantità di colpi inferti alla testa di Reina è ovvio che questo sia un omicidio dettato dalla collera dieci colpi alla nuca sono davvero tanti è un tipo di aggressione efferata e violenta i risultati alla fine dimostrano che il feto è proprio il figlio di Howard e ora arriviamo alla domanda che mi sono posta durante tutto il caso perché Howard ha lasciato in casa sua quel bidone anche dopo che si è trasferito perché non se ne è sbarazzato avrei potuto comprendere al limite se fosse rimasto a vivere in quella casa per tutto il tempo ma poi quella casa l'ha lasciata e il proprietario l'ha rivenduta trovo sia assurda questa mossa specialmente se non vuoi farti beccare per di più al tempo Howard era addirittura proprietario di una barca sarebbe stato perfetto per lui se solo fosse riuscito a trasportare quel bidone sulla sua barca a questo punto nessuno mai più avrebbe saputo nulla su Reina e il corpo probabilmente non sarebbe mai stato ritrovato e alla fine il motivo per cui Howard non ha spostato quel bidone è uno era troppo pesante avrebbe avuto bisogno dell'aiuto di più persone ma non poteva mica andare di certo dai vicini a dire ehi la guarda in quel bidone c'è un corpo è molto pesante dovrei sbarazzarmene mi aiuti? insomma ecco perché quel bidone è rimasto in quel semi interrato per 30 anni però riflettendoci deve esserci stato un periodo in cui Howard temeva di essere scoperto un periodo in cui si aspettava che qualcuno bussasse alla porta e gli dicesse senta ma la signorina Reina Marroquin lavorava per lei giusto? qualcosa che riconducesse a lui invece non è accaduto nulla di tutto ciò Howard quando avrà smesso di guardarsi le spalle? ha cambiato casa e quel bidone l'ha lasciato là certo sicuramente non avrebbe caricato il bidone sul camion dei traslochi ma in quale momento sente davvero di averla fatta franca? dopo 5? 6 anni? la cosa triste è che intanto Howard conduce una vita normale la sua famiglia è sempre unita il suo lavoro va molto bene insomma è davvero brutto pensare che sia riuscito a farla franca anche perché si è tolto la vita all'età di 71 anni lui la sua vita l'aveva già vissuta alla fine ecco che torna Oscar Coral il giornalista che riceve dal detective Robert Edwards delle informazioni che a dirla tutta cercava disperatamente il detective Robert Edwards ha dato ad Oscar le carte dell'ufficio dell'immigrazione e l'ha fatto solo con Oscar nessun altro giornalista ha ottenuto quelle carte per Oscar si aprò un mondo ovviamente lui non sapeva niente e improvvisamente scopre che quel corpo dentro quel barile ha un nome per lui è stata una rivelazione finalmente c'è un nome un'età una provenienza ed è proprio in questo momento che Oscar capisce di voler scoprire di più di questa donna quelle carte dell'ufficio immigrazione non gli bastano la verità è che il detective Robert Edwards dà fiducia ad Oscar convinto che sicuramente avrebbe scoperto qualcosa in più avrebbe scavato a fondo e quello che vuole fare Oscar è un gesto davvero molto molto umano perché vuole riuscire a rintracciare la famiglia di Reina così si mette in viaggio nel 1999 il Newsday manda il giovane reporter a El Salvador per cercare la famiglia di Reina e dopo aver setacciato interi quartieri aver bussato a decine 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 di porte finalmente un uomo gli dice dove abita la famiglia di Reina la madre di Reina poverina quando sa della notizia si sente quasi svenire viene sorretta da due parenti che la fanno sedere sul divano dove piange per ore prima di riuscire a parlare di nuovo la famiglia racconta che Reina era solita mandargli costantemente lettere per informarli del suo benessere ma quando le sue lettere si sono interrotte nel 1969 i suoi parenti in effetti hanno temuto che le fosse successo qualcosa quindi hanno iniziato a dire a chiunque che Reina era scomparsa sua sorella Dora ha spiegato che hanno ammesso molti annunci sui giornali di El Salvador con titoli anche abbastanza importanti come ad esempio giovane donna salvadoregna scomparsa a New York nonostante gli sforzi della sua famiglia Reina è rimasta una persona scomparsa per ben tre decenni detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento conoscevate questo caso fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti detto questo ragazzi io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.